Il progetto per questo film è partito dal titolo, la fine del secolo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un personaggio di cui io mi sono occupato nella scrittura che poi continuavo a rileggere nel corso della redazione, della sceneggiatura. La scrivevo e la rileggevo, la scrivevo e la rileggevo. La storia, come dicevo, è di questo personaggio, è nato in un piccolo centro e che poi noi seguiamo nei suoi spostamenti. Va in una città all'estero, è un turista, si ferma in un B&B, apre il frigorifero, va a fare una passeggiata, incontra una persona, ha un rapporto sessuale con questa persona e poi alla fine scopriamo che questa stessa persona lui l'aveva conosciuta venti anni prima e andiamo a rivivere questo incontro di vent'anni prima. I miei punti di riferimento, ebbene, i più amati sono quelli del cinema italiano. Il mio regista preferito è Antonioni. Abbiamo visto molto spesso il film L'Avventura mentre eravamo sul set. Un altro regista che amo moltissimo è Romer e anche la regista Angela Cenelec. Comunque amo tantissimo i cineasti. I hope you can see the movie End of the Century, Fin the Siglo. I think that you'll enjoy it if you've ever experienced something similar, which I'm sure you did. It's a very specific story, but it's a very universal feeling and theme, so I'm sure you'll enjoy it. Thank you.